Il direttore Gabriel Zuchtriegel ha stipulato un patto con il Museo dei Materiali Minimi d'Arte Contemporanea per tenere su un piedistallo metallico il primo dei cavalli di Mimmo Paladino, primo di una razza che ha dato molte opere sparse per le città d'Italia anche solo esposte temporaneamente. Quello in vetro resina ricoperto di sabbia del litorale di Pestum è davvero quello originario e porta una maschera di ferro. Interamente fatto con sabbia di Pestum è ispirato al Cavaliere Nero, l'Astra Tombale, che si trova nel Museo archeologico. L'opera è collocata nell'area archeologica di Pestum, nello spazio libero tra i due templi del Santuario Meridionale, Basilica e Tempio di Nettuno, a creare un nuovo dialogo tra l'antico e il presente. Per me è un'emozione fortissima, un'opera che è stata fatta per questo sito, per Pestum, con sabbia della spiaggia di Pestum. Anche il linguaggio arcaico di Paladino fa sì che quando uno vede l'opera lì, ho l'impressione che era sempre qua, era da ieri, però era come se fosse sempre stata qua. Una iniziativa che si è potuta realizzare grazie al sostegno e al contributo di una delle realtà del Cilento sempre pronta e attenta ai bisogni del territorio, Convergenza S.p.A., che ha sponsorizzato l'installazione nell'area archeologica di Pestum. Si siamo messi a disposizione per cercare di accompagnare questa iniziativa che sta sicuramente attirando un'ottima visibilità sul parco. Ieri varie testate giornalistiche di livello nazionale hanno riportato la notizia con foto e articoli importanti. Anche qui poi c'è un'altra bella cosa, quella di accostare l'antichità alla modernità, sempre nell'ottica dell'eccellenza e della qualità. Quindi sicuramente un'attività degna di nota e sfidante. Quando c'è passione, quando c'è un obiettivo sfidante e c'è la voglia di valorizzare il territorio, noi ci siamo sempre. Quindi cerchiamo di accompagnare tutte le iniziative che tendono a far emergere la qualità delle nostre produzioni, la qualità dei nostri servizi, la professionalità dei nostri talenti locali. Quindi ci siamo stati, ci siamo e spero che ci saremo anche per il futuro.